Siamo al settimo capitolo ed è quando Agricola passa dalla parte di Vespasiano. Incomincia la famiglia Flavia, siamo nel 69, poi naturalmente dopo Vespasiano arriverà Tito e poi Domiziano e con Domiziano Agricola non si trovò più in una condizione di poter essere, un po' come al tempo di Nerone, di poter essere a se stesso e di poter dare il meglio di sé. Vediamo come la situazione nelle terre imperiali non era poi così molto serena. Se addirittura capita quello che adesso stiamo per leggere. Sequens annus gravi vurdine animum et domum meius afflixit. Qui mi pare che sia molto semplice. L'anno seguente afflisse il suo spirito e la sua casa, toccò il suo animo, il suo cuore, la sua casa a causa di una grave ferita. Afflisse, no? Semplicemente. Nam classis ottoniana, licenter vaga, dum intimilium Liguria pars est, ostiliter populatur, matrem agricole in presidi suis interfecite, presidiacque ipsa ad maniam patrimoni parte di ripuit, quel causa c'è di sfuerat. Vedete che queste soldataglie giravano per l'impero e si comportavano come veri e propri nemici, un po' come oggi le organizzazioni mafiose, portando distruzione e morte sugli stessi abitanti, sugli stessi cittadini romani, sugli stessi abitanti dell'impero e non guardavano in faccia nessuno. Qui addirittura viene toccata la casa di agricola, la sua mamma, i suoi parenti, i suoi servi, i suoi possedimenti. Nam, congiunzione e coordinante, quindi partiamo già subito con la principale. Infatti la flotta guidata da Antonio Ottoniana, non è Antonio Otone, ottoniana, vaga licente, vaga senza legge, che vagava senza legge, poi inizia una temporale. Voi sapete che il DUM con valore di mentre, non col valore di finché, ma col valore di mentre, in latino vuole sempre l'indicativo presente. Però non possiamo tradurre l'indicativo presente, perché vedete che abbiamo un interfecit, siamo di ripuit, fuerat. Quindi lo traduciamo all'imperfetto, l'imperfetto è quel tempo in italiano che è indicazione contemporanea ad un'altra passata. mentre devastava Ventimiglia e tacito, tra parentesi, sottolinea, è parte della Liguria, non è che siamo in terra germanica o britannica, è parte della Liguria, ostiliter, vedete proprio questo vocabolo, l'hostis, non è l'inimicus, l'inimicus è il nemico personale, l'hostis è il nemico della patria, con ostilità, come se fosse un nemico, uccise la madre di Agricola nei suoi possedimenti e diripuit, è una coordinata alla principale, distrusse i suoi stessi possedimenti e magnan partem patrimonio, una grande parte del patrimonio. Que fuerat causa cedis, che era stata la causa della morte. Quindi, quando qualcuno mi dice che sotto Nerone, Nerone bisogna valutarlo, bisogna rivalutarlo, la storia insomma è un po' come dire oggi, ma la democrazia italiana deve essere valutata, ma quando mai laddove riescono ad imporsi i delinquenti, i mascalzoni, i violenti, gli scansafaticchi, i pellandroni, lì non c'è libertà, lì non c'è democrazia e tanto meno nella prospettiva di Tacito non ci sono i mores maiorum. Quindi, la situazione era scappata completamente di mano all'autorità imperiale e all'autorità costituita. Igi tur ad solemnia pietatis profectus agricola nunzio affectati a Vespasiano imperi depreensus axstatemi in parten trasversus est. Qui, volendo, si potrebbe consigliare tutto con la posizione principale, ma, insomma, qui ci dovrebbe essere un est sottointeso. Ricordatevi sempre il verbo essere che Tacito sottointende con molta facilità. Qui profectus profectus anche qui un participio passato potrebbe avere valore temporale quindi qui potrebbe essere una subordinata temporale. Igi tur è una congiunzione coordinante quindi sta con la proposizione principale. Quindi partito letteralmente per le cose solenni della pietà. Allora, pertanto agricola partito sostanzialmente per i funerali della madre, depreensus est fu colto nunzio cause efficienti dalla notizia letteralmente dell'impero occupato da Vespasiano dalla notizia che Vespasiano aveva occupato il soglio imperiale. Poi c'è una coordinata ac statim e subito trasgressus es passo in partes dunque partes vuol dire al plural partito passo dalla sua parte cioè dalle parti di Vespasiano. inizia principatus att statum urbis Lucianus reggevat giuvene ad domiziano et ex paterna fortuna tantum licencia usurpante dunque il soggetto mi pare evidente Luciano Luciano reggeva gli inizi del principato e la condizione urbis siamo sempre con urbis minuscolo che avrebbe dovuto essere scritto in maiuscolo della città di Roma e poi qui come vedete c'è una serie di ablativi iuvene domiziano usurpante siamo in ablativo assoluto la prima proposizione dell'ablativo assoluto ha come sottinteso essere essendo domiziano assai giovane poi possiamo trasformarlo in una subordinata causale in forma esplicita poiché domiziano era assai giovane ma poi domiziano comincia già a manifestarsi con un carattere per niente favorevole al ruolo che avrebbe dovuto occupare negli anni successivi e che usurpante ex paterna fortuna e che soddisfaceva ex paterna fortuna complemento di origine dal destino dal fortuna dal successo paterno tanto ma attenzione che un avverbo solamente licenziano capriccio ogni suo capriccio quindi non poteva domiziano occuparsi di roma per questa ragione piccola giovane molto giovane e poi già allora non si preoccupa di roma quanto piuttosto di soddisfare i capricci che sono caratteristici dei giovani se non vengono messi sotto una certa regola no la pianta dovrebbe essere sempre raddrizzata quando è ancora giovane altrimenti una volta storta non si raddrizza più andiamo avanti quindi iss missum ad dilettus agendos agricolam integreque ac strenue versatum vicesime legioni tarde ad sacramento trasgresse preposuit pubide cesso sediziose agere narabatur ecco poi ci saranno due punti due punti vogliono dire cioè si sta spiegando quello che si è appena detto ma lo vediamo dopo il sesso oggetto non c'è dubbio e andando avanti troviamo preposuit preposuit chi? iss ci stiamo riferendo a Mucciano no? costui preposuit mettere a capo di qualcosa qualcuno agricolam è il complemento oggetto attenzione che ad agricolam si attacca poi missum versatum non altri accusativi perché gli altri accusativi sono letti da preposizione ad agendos e ad sacramentum quindi questi mise a capo di che cosa? mettiamo subito della ventesima legione poi legioni dativo trasgresse passata tardivamente al giuramento evidentemente le legioni dovevano giurare tra le mani del nuovo imperatore quindi misi a capo agricola agricola missum riprendiamo riprendiamo l'accusativo sempre legandola ad agricola ricordiamoci che agricolo anche se termine inam è un maschile è un uomo non è una donna è esperto è portato qui ci sono due avverbi due avverbi che diventa difficile tradurre letteralmente è portato integralmente e decisamente cosa vuol dire è portato ad agire con integrità e con decisione traduciamo con maggiore libertà ubidecessor narrabatur qui abbiamo la costruzione personale di di cotradoferro narroputo prima facciamo la costruzione letterale dove il successore no dove il predecessore cioè colui che guidava questa regione era narrato agire con sedizione da traditore allora a questo punto passiamo dalla costruzione personale a quella impersonale dove narrabatur si diceva decessor soggetto di narrabatur diventa soggetto dell'infinitiva che il predecessore si comportava sediziosamente cioè da traditore e spiegano il perché i due punti ci spiegano il perché c'era questo sospetto qui qui pelegatis quoque consularibus ninnia ac formidolosa erat nec legatus pretorius ad coivendus potens erat incertum erat suo am militum ingegno esser qui ci sono tanti verbi essere sottinteso in alcuni casi si potrebbe anche evitare però diventa poi difficile d'altra parte tacito ha già messo un erat qui non ne mette più altri gli altri sono in più risalta tutti d'altra parte qui c'è un ang l'ang è chiaro che ci introduce una interrogativa digiuntiva non c'è il punto interrogativo quindi è un interrogativo indiretta e quindi ho bisogno di una reggente e la reggente è questa incertum erat era cosa incerta non si sapeva in ogni modo cominciamo qui anzi stiamo parlando sempre della legio questa legione dicesima dunque anzi era difficile e indisciplinata anche nei confronti dei legati consolari né il legato pretoriano era potens era capace ad coibendum a farsi rispettare a comandarla a costringerla no ed era incerto era cosa incerta nel neutro abbiamo sempre cosa incerta se fosse per intervento suo o dei soldati se fosse per che così il predecessore faceva in modo tale da non rendere esecutivi gli ordini o se fosse proprio per questa predisposizione verso l'indisciplina dei soldati però Agricola sa anche in questo caso trovare una soluzione abbastanza intelligente sempre grazie alla sua moderazione ita successor simul etulture letus rarissima moderazione invenisse bonus quam fecisse così il successore e allo stesso tempo ultor sarebbe il vendicatore però il punitore io lo trasformerei in colui che era stato chiamato per ristabilire la disciplina eletto maluit videri lo mettiamo insieme perché maluit è un verbo servile e rarissima moderazione di nuovo un complemento di modo senza alcun perché c'è l'attributo con una grandissima moderazione preferì videri sembrare che cosa aver trovato dei buoni soldati quam piuttosto che averli resi tali vedete qui che proprio la narrazione è all'osso maluit i tuoi videri i venisse bonus quam fecisse noi non possiamo proprio tradurre letteralmente preferì sembrare aver trovato dei buoni che averli fatti ecco dobbiamo poi cercare in qualche modo di rendere questo italiano accettabile preferì sembrare preferì sembrare di aver trovato dei soldati buoni piuttosto che averli resi tali e ok ok ok